Napoli, città straordinaria, persone straordinarie, insieme dobbiamo però difenderci dal Covid e per farlo è fondamentale la vaccinazione, la rivaccinazione quando necessario dopo 5 mesi e forse anche 4 nel breve, ma soprattutto un nuovo galateo da adottare sempre nei contatti interpersonali, perché questa patologia ora la conosciamo, sappiamo prevenirla, sappiamo sempre meglio trattarla, però deve esserci un lavoro corale di tutti, dei cittadini nepoletani, dei cittadini di tutta Italia, di tutto il mondo, insieme per essere più pronti a difenderci da questa stupida patologia, ma che purtroppo può dare effetti pesanti per soprattutto i soggetti più fragili. Grazie a tutti. Grazie a tutti.